Voghera Tutti gli anni con la Fiera dell'Ascensione Voghera si riempie di persone, colori, luci, eventi ma finita l'assenzia, Voghera ci piace o non ci piace? Voghera, ti piace o non ti piace? Non mi piace, io vivo a Rivanazzano Terme e adoro il mio paese certo Voghera è bella, però manca per i giovani mancano delle cose da fare per i giovani, manca l'intrattenimento che invece a Rivanazzano trovi? Sì, io mi diverto, in estate ci sono feste, vedi i ragazzi in giro anche di notte, adesso che hanno aperto un nuovo locale anche fino alle due di notte c'è gente facevo che era deserta Sì, hai paura di andare in giro Secondo te può diventare competitiva o comunque un punto di riferimento per i visitatori di Expo 2015 l'anno prossimo? Certamente, se si valorizza nei dovuti modi sì secondo me sì Le potenzialità ci sono? Ci sono certamente, è stata fino a pochi anni fa c'era la classica vasca in via Miglia, piena di gente Ora ci sono i centri commerciali Adesso c'è l'Iper, si va lì a fare la vasca, si passano le domeniche pomeriggio lì Voghera mi piace tantissimo, è la città dove lavoro e ormai ho imparato ad amarla praticamente Tu di dove sei? Sono di Tortona Al di là del lavoro secondo te ci sono dei buoni motivi per visitare Voghera? Per farsi quei 15 chilometri e dire ok vado a farmi un giro a Voghera? Beh innanzitutto questa la fiera è un buon motivo Finita la fiera? Ci abbiamo il castello Visconteo dove ci sono tante fiere, il Duomo è bellissimo e poi i vogheresi sono delle gran brave persone Cosa ne pensi della Greenway? La Greenway è stata una buona cosa per Voghera perché prima non aveva nulla dove i vogheresi potevano andare a svagarsi o andare a fare una passeggiata adesso c'è e quindi è buona cosa Sì mi piace molto perché è pieno di abitanti, c'è molta vita, poi in città è molto movimentata come città e poi ci può conoscere molta gente Alcuni dicono che ci sono pochi eventi, poche serate per i ragazzi, secondo te è vero? Sì infatti sì, adesso per via della crisi stanno diminuendo un po' le fiere, le mancarelle però insomma qualcosa si riesce sempre a fare Voghera mi piace, anche perché è la mia città, ci sono nato quindi mi piace abbastanza Qualcuno dice che c'è troppa criminalità, secondo lei è vero oppure no? Secondo me no, ci sono dei posti dove ce n'è molta di più di criminalità Lei è tranquillo quando gira per la città? Sì sì sì, sicuramente A livello turistico può essere interessante per le persone che arrivano da lontano oppure no? Sicuramente, anche perché abbiamo una giunta comunale che comunque sta facendo tante belle iniziative per la città e quindi benvenga il turismo a Voghera Quindi lei mi sta dando anche un giudizio positivo sull'amministrazione Barbieri? Sicuramente, per tante cose è un giudizio positivo Allora, è una bella città però un po' povera ultimamente a livello di serate, attrazioni, gestita male secondo me Quindi tu quando devi uscire dove vai? Mi arreco da altre parti come potrebbe essere Salice, Rimanazzano dove ci sono altre località Quindi Voghera viene completamente abbandonata? Sì, la sera sì, ultimamente sì Cosa ne pensi della Greenway? Greenway è un gran progetto, tanta gente, un bel investimento Quindi comunque è qualcosa di positivo che è stato fatto, almeno questo? Sì sì, no, assolutamente sì, la Greenway sì Mi piace per alcuni aspetti, non mi piace per altri Nel senso, io vengo da Vicenza, vivo qui da dieci anni Mi piace perché ci sono tantissimi servizi che negli altri paesi limitrofi non troviamo Non mi piace perché trovo che purtroppo, non tanto la gente Quando ci si... purtroppo, insomma, c'è un mercato del lavoro piuttosto povero Quindi si fatica a trovare una buona occupazione E questo purtroppo viene anche, si vede riflesso in quello che sono i servizi Ce ne sono tanti, ma non di un livello, secondo me, adeguato alla quantità della popolazione Secondo lei è una città sufficientemente competitiva in previsione di Expo 2015? No, assolutamente no Nel senso che purtroppo anche a livello alberghiero, le lo dico perché io lavoro in un'azienda internazionale Dove spesso abbiamo dei clienti, troviamo grandi difficoltà a trovare delle strutture adeguate all'accoglienza Di una determinata tipologia di persona, comunque di acquirente Quindi secondo me bisognerebbe veramente pensare a un miglioramento delle strutture ricettive Perché comunque gli spazi, le aree interessanti, anche a livello turistico ci sono sicuramente Non vengono sfruttate bene Voghera non mi piace tanto, dovrebbe essere meglio, potrebbe essere meglio Tu vivi a Voghera? No, vivo a Varzi e mi piace molto di più Che cosa manca a Voghera secondo te, principalmente? I giovani, la vita e un po' di... La cosa in più che possa essere d'attrazione per i ragazzi? Bravo, sì La Greenway tu l'hai vista? No, cioè sì l'ho vista ma non l'ho fatta Non mi... dicono che hai mezzo alla natura ma in realtà sei in fianco al statale Quindi non penso... Non sei in mezzo ai boschi No, no, no Però se la facessero più lunga allora magari può essere più carina Per tanti giri in bici Farla arrivare su, su dai monti, su da noi Allora lì sì che è bella, viene bene Ragazzi Voghera vi piace o non vi piace? Ma sì, come paese è molto bello Poi insomma appassionati di agricoltura, un paese molto anche agricolo Basato su agricoltura Poi la natura insomma qua è molto pulita Domina anche Sì domina la città soprattutto anche pulita rispetto alle altre città Tipo Milano che è una bella cittadina a regola Tu di dove sei? Io di Cervesina però essendo un piccolo paesino qua a Voghera Veniamo sempre appunto poi adesso con la festa in modo anche per divertirsi E possiamo usufruire delle giostre Finita l'ascensione, secondo te ci sono dei buoni motivi per spostarsi da Cervesina e venire a Voghera? E beh direi proprio di sì La compagnia e poi anche un bel posto Anche con la via Emilia Sempre con i ragazzi e varie gelaterie Tu hai sentito parlare della Greenway? Sì ho sentito parlare Hai fatta? Non l'ho mai fatta perché comunque non ho mai avuto la possibilità Però sarebbe davvero bello farlo Potrebbe essere una bella esperienza da fare Ok, l'idea è buona L'idea è buona, hanno restaurato la vecchia ferrovia Almeno il posto di lasciarla lì per niente Hanno trovato un modo alternativo per sfruttarla Insomma naturale Insomma utile per i ragazzi O comunque chi vuole usufruire delle biciclette O giochi Comunque è una buona alternativa Tu dove vivi invece? Salice Terme Salice Terme, quindi è veramente il posto dove ci sono tutti i locali Tutti ci stanno dicendo No a Voghera non c'è niente Dobbiamo andare a Salice Terme Tu da Salice Terme dove hai tutto invece? Ti sposti a Voghera? Esce a Voghera? Ma qualche volta ci sono molti punti d'incontro Come ho già detto Gelaterie E soprattutto la Greenway Che qualche volta ci andavo Ci vado con i miei amici È veramente un bel posto Quindi anche chi vive a Salice comunque può venire a Voghera? Tranquillamente Senza alcun problema Siamo con un ospite internazionale Addirittura arriva dalla Francia È qui negli stand della Fiera dell'Ascensione Ha visitato un po' Voghera in questi giorni? Abbiamo un po' visitato, sì Abbiamo visto il Duomo E anche il mercato E la Fiera di Voghera Le è piaciuto? Molto piaciuto Perché non sono giovane Ha piaciuto, sì Quindi lei ci tornerebbe volentieri? Sì Torneremo volontieri, sì A livello invece di commercio Come sta andando qua la Fiera? Per noi non è un commercio È per fare conoscere La città di Manosca Perché abbiamo Abbiamo tutte queste Che sono le immagini di Manosca Anche perché Manosca e Voghera sono gemellate? Oh, è complicato Manosca e Voghera sono gemellate Perché a Manosca c'è un scrivatore C'era un scrivatore Scrittore Scrittore Che si chiamava Jean Jonot Sì Tu lo conosci? No Ah no Tu venirei a Manosca A Manosca Che si chiamava Jean Jonot Che è venuto Che aveva amici a Voghera E che è venuto a Voghera Nelle anni 1940 Per fare i suoi libri Ah, quindi magari prendeva ispirazione da questa città E da questo Incredibile E nascosto il gemellaggio Manosca-Voghera Abbiamo imparato anche una cosa nuova su Voghera Grazie Ok Finita la sensi a Voghera Ti piace o non ti piace? Non mi rispondi? Perché non mi rispondi? Perché hai un mitra in mano? E giù? Mi rispondi? Mi rispondi? Puチャò